Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale a cura della redazione di RTV38 che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. Quest'oggi la puntata è interamente dedicata alla festa della Toscana che si è celebrata nei giorni scorsi con numerose iniziative a partire dalla seduta solenne del Consiglio regionale che si è tenuta al cinema alla Compagnia di Firenze alla presenza di tanti sindaci e studenti della nostra regione con tanti ospiti importanti sul palco nel segno dei messaggi di Don Milani e il segno che lui stesso ha lasciato a tutta la comunità nel corso degli anni, il prete, educatore e scrittore fiorentino. Vediamo. Seduta solenne del Consiglio regionale al cinema la Compagnia di Firenze per celebrare la festa della Toscana quest'anno dedicata a Don Lorenzo Milani nel centenario della nascita del prete, scrittore ed educatore fiorentino alla presenza di molti sindaci e studenti toscani sono intervenuti la Presidente Emerita della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, Rosi Bindi, Presidente del Comitato delle Celebrazioni per il Centenario di Don Milani il Cardinale Giuseppe Bettori, Arcivescovo di Firenze Izzedine Elzir, Imam del Capoluogo Toscano e Gad Piperno, Rabbino Capo della Comunità Ebraica Fiorentina. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad aborire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte facendo violenza a chi ha fatto violenza la Toscana è terra di diritti la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte abbiamo voluto oggi che insieme a noi ci fossero il Rabbino Capo ci fossero l'imam di Firenze, il Cardinal Betori perché la Toscana è una terra del dialogo è la terra di Giorgio Lapira la Toscana è una terra che vuole contribuire attraverso il dialogo interreligioso a cercare di costruire le condizioni per la pace nel mondo è un tempo difficile quello che viviamo abbiamo pensato ad un certo punto se farla o non farla questa festa lo abbiamo fatto pensando alle vittime del terribile alluvione a chi ancora ha un'azienda che non si riapre le famiglie sono in difficoltà però abbiamo pensato di farla per mandare un messaggio forte alle ragazze e ragazzi più giovani di non voltarsi mai dall'altra parte di costruire le condizioni per cui ci sia una giustizia sociale più forte per fare in modo che le parole di Don Milani quel I care, quel me ne prendo cura siano alla base del nostro impegno credo che sia una scelta che fa onore alla Regione al Consiglio e alla Giunta perché in questo momento Don Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale lo è come prete, lo è come credente lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca alla quale lui apparteneva è una Toscana molto povera sfruttata nelle fabbriche, nelle campagne sicuramente dal tempo di Don Lorenzo Milani molte cose sono cambiate ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremo l'aumento delle disuguaglianze i pochi investimenti nella scuola nella sanità nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla Voglio esprimere la mia gratitudine alla Regione per aver scelto la figura di Don Milani come figura emblematica di questa festa nel centenario della sua nascita è una figura, una persona che ha molto da insegnare a noi sia nella promozione della dimensione umana della persona della sua dignità attraverso la cultura attraverso la parola e quindi la cultura e poi persona che ha spinto sempre la responsabilità verso l'altro la Iker che viene ricordato anche nel titolo della festa dice questo, che nessuno di noi può esonerarsi dal farsi responsabili verso i problemi degli altri soprattutto dei più umili Personalmente per me e per la comunità con l'onore di rappresentare essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante è un grandissimo onore partecipiamo perché la comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante del tessuto della società toscana e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana poi il tema anche di un'istruzione di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti ma che sia un elemento di crescita di tutta la società è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro Oggi è una giornata molto importante ricorda la sacralità della vita umana la Toscana è stata la prima realtà il primo stato al mondo di abolire la pena di morte e oggi con le guerre che abbiamo nel mondo Russia, Ucrania, Palestina, Israele e centinaia di guerre del mondo abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana e poi ricordando anche la nascita di Don Milani che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante I care quel motto realmente che vuol dire devo fregarmi dell'altro devo condividere l'altro devo mettermi in mano dell'altro oggi abbiamo bisogno di questo l'ultimo atto delle celebrazioni della festa della Toscana si è svolto nel cortile della Dogana di Palazzo Vecchio dove il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha deposto una corona ai piedi della lapide che ricorda l'abolizione della pena di morte del 1786 nel momento più bello come nel momento più critico la Toscana ricorderà sempre in modo solenne il 30 di novembre del 1786 quando il primo stato al mondo abolì la pena di morte era allora il granducato di Toscana guidato da Pietro Leopoldo oggi la pena di morte esiste in due terzi del pianeta e quindi ci rendiamo conto come l'attualità di quello che fu per la prima volta in Toscana un atto di riconoscimento di diritti dell'umanesimo della persona umana che qualsiasi cosa abbia fatto potrà essere in carcere per tutta la vita ma l'inviolabilità della vita umana è fondamentale possiamo affermarlo e rivendicarlo in tutto il mondo come primato della nostra regione intorno a questo la festa della Toscana significa sempre il riconoscimento delle eccellenze degli aspetti che proprio sul piano dei valori caratterizzano la Toscana in un mondo che chiede diritti per la persona chiede che vi sia la valorizzazione della persona umana in tutto il mondo costellato purtroppo sempre più da guerre e quindi la questione dei diritti si unisce a quella della pace e proprio stamani in nome di Don Milani avremo il riferimento a quello che sono i valori che attraverso la pace l'obiezione di coscienza il diritto e il riconoscimento a un'educazione per tutti sono quelli su cui si è conformata una delle regioni che viene considerata fra le più civili del mondo una festa che ha sempre un grande fascino un valore unico I care l'idea di prendersi cura degli altri di chi soffre e non solo degli ultimi e non solo ma soprattutto di farsi carico di tante persone che in questo momento sono in difficoltà lo sono nella nostra regione lo sono nel mondo la Toscana si deve fare carico di tendere sempre una mano verso gli altri la Toscana l'ha dimostrato nella propria storia rispettando il valore dell'uomo quanto tale rispettando il valore della persona in quanto tale e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale dentro i processi di pace e dentro dei processi che devono portare diciamo l'umanità a riscoprire una sorta di maggiore rispetto del valore umano della persona quanto tale e questo deve accadere su tutti gli aspetti della vita sociale l'abbiamo visto in questa settimana rispetto alle questioni che riguardano la violenza contro le donne l'abbiamo visto nei confronti dei minori l'abbiamo visto a livello internazionale la Toscana deve fare può fare di più dobbiamo essere particolarmente fieri di essere eredi di quel gran ducato di Toscana che primo stato al mondo il 30 novembre 1786 ha abolito la pena di morte il primo stato ad averlo fatto al mondo in nome di quei valori dell'illuminismo che permearono profondamente la cultura di quel tempo in Toscana quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana la Toscana dei valori umani e della lotta e disuguaglianza cento anni dalla nascita di Don Milani una figura sicuramente che unisce in un periodo della nostra storia che è quanto mai complesso e che ci tramanda degli insegnamenti importanti ma che ci ricongiunge idealmente allo stesso illuminismo in una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere cura degli altri I care la proposta di invitare i tre rappresentanti delle religioni monoteiste è una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza perché penso che la giornata dedicata alla festa della Toscana a maggior ragione nel momento in cui questa festa quest'anno abbiamo appunto intitolato a Don Milani debba anche essere un segnale di dialogo un segnale sicuramente di pace le nostre comunità stanno insieme se teniamo presente abbiamo presente che sono comunità composte da persone che hanno fedi e credi religiosi differenti quindi il segnale che oggi parte dalla regione toscana dal consiglio regionale è sicuramente un segnale fortissimo è molto importante per la Toscana ed è stato significativo festeggiare il proprio giorno di celebrazione all'insegna di Don Milani e del suo messaggio perché ci ha ricordato e ci ricorda ogni giorno come la conoscenza è uno strumento di cittadinanza e ricordarlo a tanti ragazzi e ricordare quel valore della disobbedienza nel di più disobbedienza nel fare qualcosa di più anziché nel fare qualcosa di meno abbia ispirato il magistero di Don Milani e lui in pochi anni di vita in 43 anni di vita ha lasciato un messaggio che attraversa il tempo ancora oggi da 100 anni dalla sua nascita essere con i ragazzi a cercare di attualizzare quel messaggio e a sottolinearne il valore eterno è molto significativo e credo che dia senso e corpo a celebrazioni che non sono solo di facciata di maniera e formali ecco nell'ambito della festa della Toscana nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso è stato presentato il libro di Francesco Nicolini la scuola più bella che c'è che racconta la vita e le opere di Don Milani e l'esperienza di Barbiana è la rivoluzione prima di tutto culturale che spirituale di un uomo e un prete che porta delle novità e degli insegnamenti fondamentali nella storia d'Italia Don Milani prova a dare parole a chi parole non ce le ha in base a un principio semplice che tutti insieme ci dobbiamo salvare non soltanto i migliori i privilegiati i ricchi e questo penso che fosse e resti rivoluzionari la rivoluzione non quella metaforica da magliette ma la rivoluzione interiore quella che fa scuotere le coscienze e quella che insegna a volare la rivoluzione che la scuola dovrebbe insegnare oggi giorno ogni ragazzo ogni ragazza di oggi quindi la storia di una scuola piccola piccola che ha fatto una rivoluzione grande grande quella di insegnare ai ragazzi e alle ragazze a volare e quindi a raccontare capire e affrontare il mondo con la propria testa senza aver paura di farlo questo dunque era il maxi argomento della puntata della voce del consiglio dedicata interamente alla festa della Toscana nel segno di Don Milani ovviamente l'appuntamento con la trasmissione è su RTV38 per la prossima settimana da non perdere anche tutti gli aggiornamenti che possono essere trovati sul sito web del consiglio regionale è davvero tutto grazie per l'attenzione e buon proseguimento arrivederci a presto Grazie a tutti.